Hai necessità di vaccinare tuo figlio o tua figlia? Puoi farlo gratuitamente se è in regola o in ritardo o anche se è la sua prima vaccinazione. Partecipa alla rassegna percorsi di salute e benessere nel Real Bosco di Capodimonte. Sono offerte tutte le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate previste dal calendario del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale nei bambini e nelle bambine dal 61esimo giorno di vita fino agli undici anni compiuti. Ti aspettiamo alla pagianeria del Bosco di Capodimonte. Per conoscere giorni e orari consulta il calendario su www.aslanapoli1centro.it Vieni quando preferisci senza bisogno di prenotazione. Al Bosco insieme al gioco la prevenzione. Grazie. Grazie.